Torna appartenente a questa vita, un percorso evidenziato in ogni domenica di quaresima da una testimonianza di vita diversa. Storie di oggi che intrecciano nella vita comune, nella vita ordinaria, il misterioso filo della fede che ci lega ad una vita più grande. Testimonianza di Matteo Gamerro. Ex atleta, laureato in ingegneria da diversi anni, si trova su una sedia a rotella a causa della sclerosi multipla. Ma non si è arreso alla malattia. Il suo motto, si può fare. Dopo il cammino di Santiago da poco, Matteo ha intrapreso una nuova sfida, percorrere il cammino di San Michele dal Piemonte alla Puglia per 1500 km, con la sua Jolette, spinta da amici. Matteo, a caso della malattia, non è più in grado di parlare, ma ciò che non ha perso è la voglia di condividere con i ragazzi la gioia di vivere. Il vero viaggio è la vita, un percorso da assaporare minuto per minuto senza perdere un istante. Testimonianza di Chiara Badano. Maria Teresa ci consegna la testimonianza della vita di sua figlia, la beata Chiara Luce Badano. Dopo i 25 minuti di lotta, quelli che sua mamma ha definito il suo gezzemani, Chiara si è lasciata avvolgere e trasformare ad una luce che risplende. Chiara Lubic, fondatrice dei Focolari, la soprannominò appunto luce per il suo sorriso. Tanto il più prezioso adesso in questo tempo confuso e buio, che attira e conduce a colui che è la fonte di tanta grazia. Chiara per le sue virtù di vita è stata miattificata il 25 settembre 2010. Testimonianza della comunità Cenacolo. Dalla fantasia dello Spirito Santo attraverso le intuizioni di Sor Elvira Petrozzi, è nata nel luglio del 1983 la comunità Cenacolo, come risposta della tenerezza di Dio Padre all'urlo di disperazione di tanti giovani stanchi, delusi, disperati, drogati e non drogati, alla ricerca della gioia e del senso della vita. Collaborano con lei volontari, consacrati e famiglie, che vivono e si dedicano a tempo pieno e nella totale gratuità a servizio di quest'opera. Testimonianza del giudice Thea Baraldi. Già giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, la sua testimonianza ci introdurrà in un mondo che fa della misericordia e corresponsabilità i punti cardini per condurre in porto situazioni difficili. Il giudice ci mostrerà il lato della fede e della giustizia, che hanno intrecciato gli anni del suo lavoro e non solo. Testimonianza di Goodluck. Goodluck, ragazzo della Nigeria, giunto ormai a San Salvatore da qualche anno, si dona e ci consegna la sua drammatica storia. Una testimonianza toccante che racconterà della fuga dal suo paese, della sofferenza che la sua famiglia ha subito e sta subendo. Un invito a giudicare con gli occhi del cuore tutte quelle storie che portano in sé uno strappo. Testimonianze che partiranno proprio dal Vangelo proclamato nelle domeniche di Quaresima. Testimonianze che dicono come oggi più di ieri, esse siano la traccia di Dio nella nostra vita.